Potere Megapolli! Potere Megapolli! Potere Megapolli! Potere Megapolli! Potere Megapolli! Potere Megapolli! Di questo passo riusciremo a consegnare tutti i volantini prima dell'ora di pranzo. Oh, ciao Peanut! Ciao Polly! Ti ringrazio ancora per l'aiuto che mi stai dando con la mia attività. Come sta andando là fuori? Bene! Invece al locale come va? Oh, non bene. Pensavo che la mia nuova insegna avrebbe attratto più clienti, ma non ho ancora servito un hamburger o una pallina di gelato? Tranquillo! Grazie ai volantini si formerà la fila, vedrai! Il radar ha captato una grande folla! Peanut, ora vado! Shani, diamo un'occhiata! Chi è? Benedict Cobb! Conduce il programma Pasti Speciali! Gira per i ristoranti e consegna dei premi a quelli che giudica speciali! Allora, questo ristorante merita il primo premio speciale, ovvero il piatto d'oro! La risposta è... No! Peccato, considerando che le persone vengono da molto lontano per mangiare nei locali che considero speciali. Signor Cobb! No, 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 mi spiace molto, ma per oggi ho finito di firmare autografi. Veramente io volevo parlarle del locale di Peanut? È un posto che merita di essere conosciuto. È in fondo alla strada. È difficile non considerare questo posto speciale. Ah, davvero? Mi sembra una bella sfida. Ci andrò stasera. Stasera? La aspettiamo per un'esperienza unica nel locale più speciale del mondo. Il mio locale va in tv! Ma tutto questo è davvero necessario? Tu pensi che lo renderà speciale o...? Molto speciale. Fidati, abbiamo fatto una mini ricerca. Si mangia anche bene, ma i locali devono pensare in grande per essere eccezionali. Potrebbero fare degli spettacoli, o trasmettere dei film mentre le cameriere servono sui pattini. Adoro i film di spionaggio, ma qualcuno ci pensa mai? No! Credo che Cobb lo adorerà. Ecco il punto forte. E poi la speciale ricetta dei tuoi hamburger consegnata sui pattini direttamente in auto. E a completare il menù, un bel frullato fresco. Da oggi il tuo gelato sarà ancora più buono. Ho costruito questa macchina con le mie mani. Allora, io penso all'hamburger. Dovrà essere perfetto. Sunny!